Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati a questo canale di Battlefield Games Io sono Carlo e oggi ragazzi siamo tornati su Battlefield 4 per fare un nuovissimo gameplay totalmente alla scazzo perché non so, perché avevo voglia di fare un gameplay su Battlefield e ha tantissimo tempo che non ci gioco quindi ho detto perché non fare una partita e perché non registrarla l'altro giorno abbiamo testato le mie doti su dirti bombe che devo dire che sinceramente non era stata una brutta cosa e devo dire vediamo se anche su Battlefield ho ancora queste abilità, queste skill che poi c'è ho fatto cagare a dire la verità però dettagli, se intanto la mappa partisse siamo su cresmuscolo, deathmatch a squadroni ok utilizzeremo l'N416 proviamo anzi l'N94 ho un mirino magari no eh sarebbe tutto troppo, molto bello va bene, diamo una mimetica vai, poniamo ragazzi vediamo quello che riusciremo a fare deathmatch a squadre vediamo se so ancora giocare a Battlefield mi stanno già sparando mille mila colpi ok io me ne vado forse ho la sensibilità giusto un po' troppo alta oh oh questi qua sono nemici tutti sdraiati per terra non li avevo visti ragazzi oh però è forte l'N devo dire cioè tre colpi tre quattro colpi è morto questo ragazzi ok vediamo cosa riusciamo a fare rispondiamo cerchiamo di fare una partita decente perché diciamo che non mi dispiacerebbe quindi ok qua non c'è nessuno torniamo su a vedere cosa riusciamo a fare qua eccolo e se vabbè con l'usas ragazzi grazie grazie che mi avete rianimato via 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 fuga tattica qui sono tutti morti adesso c'è qui che piovono granate è un casino ma cos'è regà non mi ricordavo che Battlefield era un casino allucinante così eh sinceramente cioè è un casino ma guardate che casino c'è piovono granate da tutte le parti occhie nemici occhie nemici eccolo via 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 fuga kit medico io vado di qua io vado di qua eccolo muori dai stromini mi hanno tirato un RPG o un non so cosa ho sentito un razzo arrivarmi muori no muore regà non muore quanti marker io ho fatto vabbè più che altro perché io sono smiratissimo senza colmierino metallico sono una cosa smiratissima quindi dovrò anzi facciamo così cambiamo armi facciamo un change tattico perché sennò è la fine giusto allora prendiamo 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 M416 va bene mi piace questo quindi ok ragazzi mi ha cambiato armo questo lo rianimiamo perché io voglio bene perché io sono uno che rianima allora ce n'è uno ok le mie dotti da cecchino a distanza devo dire che non esistono più vogliamo andare di qua vediamo attenzione attenzione che va a arrivare la gente no non c'è più nessuno vai occhio 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 ti rianimo amico sono tutti morti sono tutti morti perché muoiono tutti mentre che rianimo perché muoiono tutti mentre che rianimo ragazzi sto facendo cagare non mi interessa cioè no mi interessa però che palle non so più giocare a battlefield è un gioco che secondo me è diventato veramente granata incasilatissimo ok eccolo guarda lì sono ovunque ragazzi ci stanno chiudendo ci stanno chiudendo nel nostro spawn sono ovunque sono ovunque sono fottutamente ovunque non so neanche quanto sto facendo perché sono troppo giù nella classifica ok allora vorrei dire che vado in giro ad arrivare io faccio il dottore di turno quello è morto io tiro una granata tattica lì no questo è il tasto lo sbaglio ho anche i tasti per tirare le granate ragazzi cioè non ci credo hitmarker attenzione c'è qualcuno ecco lì non muoiono ragazzi non muoiono non muoiono ragazzi faccio hitmarker ma loro non muorono morite dovete morire male e dai hitmarker questo hitmarker di merda assistenza eccisione questo è morto questo muoiono dove cazzo è finito oh bug vabbè ragazzi non vuole essere rianimato via di qua via 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 occhio questo muore forse no devi morire male oh la e se vabbè ragazzi qua sono solo dei cecchini io me ne vado eccolo eccolo assistenza uccisione figuriamoci se lo uccido io adesso lo rianimiamo intanto mi uccideranno copritemi 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 occhio sono là occhio sono tutti là nemico ucciso granata via ok ok ci sto rifacendo un po' la mano non muore regà non muore non muore non mi ricordavo che ci voleva così tanto tempo per uccidere una persona su battlefield vabbè 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 non facciamoci queste domande ok proviamo a fare il giro dall'altra parte vediamo eccolo l'ho visto muori eccolo grande occhio mi ha visto anche lui sono là sono là sono ovunque non muore regà non muore sono smirato ok vediamo sono ovunque ok vai oh qua sono tutti morti anche io il bel gesto della rianimazione c'era però non non ce l'ho fatta ragazzi mi dispiace non ci ho provato io diciamo ok ragazzi mi sa che tra poco è anche finita la partita abbiamo fatto veramente cagare fatemi sapere nei commenti anche cosa ne pensate anche se io so cosa ne pensate perché c'è è veramente una cosa tristissima è stata questa partita però vabbè ragazzi non mi interessa a me piace fare il gameplay e io ve li porto là c'è un cecchino si vabbè guarda ci sono ovunque ragazzi si hanno veramente paonato malissimo ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto perché la partita è finita lasciatemi un bel like qual video se il video vi è piaciuto ovviamente se no fate come volete vediamo 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 non mi interessa voglio vedere quante chi l'ho fatto vediamo incredibile 6-9 6-9 così a caso vabbè ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto la partita del gameplay finisce qua ci vediamo con il prossimo video fatemi sapere nei commenti se volete altri video di Battlefield 4 se volete che torniamo con il video magari anche su Battlefield Heartland o comunque su altri FPS e niente se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi con questo ci vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti i nostri spiegati a tutti i nostri spiegati al canale